E scatta da domani, lunedì 6 dicembre, il Super Green Pass. Chi è vaccinato e guarito dal Covid resterà libero di andare al ristorante, al cinema, allo stadio, a spettacoli, eventi sportivi, ristorazioni al chiuso, feste, discoteche, eventi pubblici. Con il test negativo si potrà invece continuare ad andare al lavoro. Il mancato rispetto delle regole comporta una multa da 400 a 1.000 euro. L'obbligo di Green Pass fino al 15 gennaio 2022 viene steso a ulteriori settori, alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale. Tutte le regole, tutte le informazioni sono consultabili, come vedete, sul nostro sito internet www.reteotto.it curato dalla redazione per chiarire ogni dubbio.